Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Nel corso delle nove ore di interrogatorio, Filippo Turetta, 22enne detenuto a Verona con l'accusa di omicidio volontario aggravato, ha oscillato tra prolungati silenzi e lacrime, rivelando una gamma di emozioni che spaziavano dallo sguardo spento alle risposte articolate. Questo contrasto era evidente rispetto alla sua precedente comparizione davanti al giudice tre giorni prima, in cui molte domande avevano ricevuto risposte vaghe e un frequente non ricordo. L'interrogatorio ha portato alla luce incongruenze nel racconto di Turetta, evidenziate da domande puntuali che mettevano in discussione la sua versione dei fatti. Il giovane aveva usato l'espressione «mi ha scattato qualcosa in testa per spiegare l'orrore dell'omicidio», ma ora doveva affrontare il confronto con le prove concrete raccolte dai carabinieri. Il procuratore Andrea Petroni, responsabile dell'inchiesta, ha contestato a Turetta tutte le prove raccolte, tra cui i due coltelli trovati e il nastro adesivo acquistato online poco prima dell'11 novembre, presumibilmente utilizzato per immobilizzare la vittima. Questo dettaglio aggiungeva ulteriori accuse al giovane, che oltre all'omicidio volontario e al sequestro di persona, rischiava di affrontare le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. La dinamica della relazione tra Turetta e la vittima, Giulia Cecchettin, è emersa nel corso dell'interrogatorio. Le pressioni psicologiche, i ricatti e la pedinatura di Giulia avevano contribuito a creare un clima di ansia e paura nella sua vita. Nonostante Giulia avesse deciso di porre fine alla loro relazione estiva, Turetta insisteva nel tentativo di recuperare il rapporto. La tragica sera dell'omicidio, iniziata con una cena in un centro commerciale a Marghera, si era trasformata in un incubo nel parcheggio a Vigo Novo, dove la prima aggressione aveva avuto luogo. La violenza continuava nel parcheggio di Vialdo Moro, con il vicino di casa che lanciava l'allarme, ma in vano. Turetta aveva già portato Giulia nella zona industriale di Fosso, dove una telecamera di sorveglianza aveva catturato le fasi finali della seconda aggressione, culminata con oltre 20 coltellate. Il giovane aveva poi abbandonato il corpo di Giulia a oltre 100 chilometri di distanza, nei pressi del lago di Barchis, avvolgendolo in sacchi di plastica neri. Nel corso dell'interrogatorio, Turetta aveva dovuto ricostruire minuziosamente gli eventi di quella sera e dei giorni successivi, inclusa la fuga in Germania. Mentre attende il trasferimento nella sezione protetti del penitenziario, la sua sicurezza potrebbe richiedere ulteriori interrogatori. Le autorità cercano di gettare luce su ogni dettaglio, in modo da ottenere una comprensione completa della tragica vicenda.